Anche nelle Marche, cittadini e imprese sono quanto mai allarmati dal decreto legge approvato ieri sera dal governo Meloni, che blocca definitivamente e con effetto immediato lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi. Le imprese del settore costruzioni e dell'impiantistica sono sconcertate e minacciano il blocco dei cantieri in tutte le città. Lo afferma CNA Costruzioni di Pesaro Urbino, che si unisce al coro di protesta attraverso una nota del suo presidente Fausto Baldarelli. Si tratta di una misura che fermerà il mercato immediatamente, secondo CNA, che in queste ore sta ricevendo telefonate di disperazione da parte di molti imprenditori increduli per il provvedimento. Una decisione reputata spiazzante dopo che sul tema si erano aperti spiragli importanti con gli enti pubblici locali, in primis la provincia di Pesaro Urbino, disposti a garantire la cessione dei crediti. Imprese pesaresi che, secondo CNA, hanno lavorato in osservanza di una legge dello Stato facendo lo sconto in fattura perché era una possibilità prevista dalla normativa vigente. E così, dopo aver pagato materiali ed eseguito i lavori con tutte le difficoltà legate alle norme che in corso d'opera sono cambiate in continuazione, non sono state pagate e adesso pure rischiano la chiusura, un fatto grave che nelle prossime ore potrebbe generare una mobilitazione di tutto il settore anche a livello locale.